Sono molto contento di essere tornato qui e mi auguro personalmente di avere un impatto sicuramente più positivo rispetto alla mia prima esperienza dove ero molto più giovane, avevo meno esperienza e giocai poco. Quindi personalmente mi auguro questo. I primi 180 minuti sono arrivati sei punti comunque molto importanti, quindi fanno bene al morale e fanno bene anche alla classifica e possiamo ancora migliorare tanto e comunque penso che come partenza non è scontata visto che siamo tutti ragazzi nuovi. Ci sono delle cose da migliorare ma ci sono anche tante cose positive. Ci sono tanti ragazzi che sono arrivati alla fine, io compreso, quindi dobbiamo capire anche bene i meccanismi e tutto. L'impegno c'è stato, anche tante note positive a livello di gioco secondo me e diciamo che è un punto di partenza importante da qui. Se riusciamo a migliorare tutti quegli aspetti che finora non sono stati o magari quelle fasi di gioco dove non siamo stati ottimi, diciamo che sono abbastanza positivo sul proseguo. Il gioco di Euterio è sicuramente più offensivo nel senso che vuole comunque accettare spesso anche dietro ci ritroviamo con l'uno contro uno e lo accettiamo tranquillamente. Quindi quando accetti questo vuol dire che in avanti hai un pressing che parte molto forte ed è un pressing organizzato ovviamente che parte dal primo giocatore fino all'ultimo. Questo ti consente a volte di prendere la palla in una zona più avanzata e quando hai palla di attaccare con più giocatori. Ovviamente dopo due anni difficili è giusto che siamo noi a trascinarci un po' e spero che un po' con il gioco, un po' con i risultati, pian piano riusciremo a tirarci dietro un po' tutta la città perché io so, perché già ci sono stato, quello che può essere lo stadio pieno. Quindi mi auguro che continuiamo a fare il risultato in modo da poter attirare più persone allo stadio. Per quanto riguarda l'anno scorso nella Ternana è stato un mix di componenti forse irripetibili visto quello che abbiamo fatto. Sono sincero quando sono convinto del fatto che l'abbiamo costruito allenamento dopo allenamento. Si era creata una competizione sana, un gruppo forte che poteva contare su due o tre giocatori per ruolo forti e con esperienza. E' un gruppo simile a questo, non a livello tecnico ma a livello di compattezza? Assolutamente sì, era un gruppo con un'ossatura che giocavano insieme da due o tre anni, quindi anche quello aiuta. Noi forse qui siamo tutti un po' nuovi, però l'atmosfera positiva è alla base di tutto e quella si può anche creare in poco tempo. Il gruppo qui è già molto unito e molto motivato, quindi il lavoro durante la settimana è un lavoro duro ma lo facciamo tutti con grande predisposizione e quella è la base di tutto in questo campionato, più dei valori.